E' possibile realizzare un complesso balneare nella città dell'Italia. Un progetto trasparente con un forte ricadro generazionale. Grazie, per il mare a Milano sarebbe bello. Questo mare sarà calmo o sarà amoso? Posso lasciarvi una cartolina del mare a Milano? Ok. E' uscendo per le vie milanesi si sente l'odore dei doposole, l'odore delle creme abbronzate. E andando per i grandi magazzini ormai è impossibile trovare un telo da mare anche a pagarlo. Ecco, se fosse per il vostro entusiasmo diciamo che saremo già tutti con le impradite ai piedi. Dovevo capire come fare per fermare Milano. Ci sono dei video di un ingegnere. E' un buon progetto, si risparmia anche sul pendolarismo. Ma lui cosa venderete se a Milano riesce a fermare? Io? Vendere il pesce. E' un bellone. Io? Io sono il grattacerpo e ho la spiaggia e il mamma mamma mamma, è bello. Ecco, si tratta di una rigenerazione urbana senza precedenti. Spogliamo il mare a Milano, via a Corso Buenos Aires, via tutti dentro con l'aria. Ma ragazzi, ma il mare, ma che ringhiai sta aerea. Ma il mare? Venghi attraversare il parco. No. Io adesso ho visto che è un ago. Vado in cadono sette volte più, ma che? E così si può attaccare le navi. No, no, questa qui è una cosa vera. Il mare sì, il canale no. No è canale.